Le tisane digestive? Più gastrina io stimolo, più insulina produco. Quindi più bevo acqua, più gastrina faccio, più insulina produco e più ingrasso. Quindi non solo mi gonfio ma ingrasso anche. Mamma mia, mamma mia. Imparate a mangiare, non dico a secco ma abbastanza. Poi abbiamo tutta quella che è la presenza di ortaggi sul piatto che la gente mangia, pensate che facciano bene. Ma attenzione perché molti cibi come i frutti vegetali sono pieni d'acqua. Quindi dalla melanzana, peperone, pomodoro, cetriolo e alla zucchina è tutta acqua. Quindi anche la carota, la patata un po' meno, ma la cipolla c'è dentro, ma è acqua. Ci sono grosse quantità di acqua. Quindi attenzione a tutte queste ortaggi che poi la gente adesso me le fa un minestrone. Dicono verdure in generale, ma non è verdure. Le verdure sono solo quelle a foglia. Va bene? Però anche quelle per esempio sono ricche di acqua, perché sono acqua e fibre. Tutta questa cosa, ah ma io mangio tanta verdura, benissimo. Ma prima di mangiare la carne, prima di mangiare il pesce, prima di mangiarmi dei fagioli, cioè delle altre sostanze che possono essere ricche di proteine. E poi questo è importante, la digestione gastrica. Ricordiamoci che noi abbiamo sempre, abbiamo sempre i sistemi della fame attivati. Sempre. Noi non abbiamo mai il senso di sazietà attivato. Noi siamo sempre in caccia di cibo. Sempre. Noi siamo dei luni di cacciatori di cibo, non c'è niente da fare. Noi dobbiamo ricordarci che questa è una realtà della situazione. Noi abbiamo sempre fame. E non il contrario. Questo vuol dire che l'evoluzione dei cittadini di mediatori della fame è permanentemente espressi. Quindi quando io mangio tanto li faccio tacitare, ma dopo un po' questo trick torna su come il tappo di sugolo nel mare. E ricomincio a mangiare. Infatti mangio al mattino, mangio a mezzogiorno. È un continuo. Perché il corpo deve accaparrarsi il più possibile. Perché non sempre c'è disponibilità di cibo. Quando siamo nati. È una cosa attavica questa. Esatto. Ma siccome non è cambiato, noi adesso che abbiamo un enorme disponibilità di cibo, abbiamo ancora i geni della fame di 10.000 anni fa. E se noi accontentiamo questi geni, diventiamo delle p***e.